Arriva un report estremamente interessante per Bitcoin, un report che va a riscrivere un pochino quello che è il sentiment globale sul mercato proprio per questo asset. Infatti Bitcoin è un asset odiato e amato, un asset da molti visto come un qualcosa puramente di speculativo, privo di valore, che non può neanche essere considerato valuta, mentre da altri sta iniziando ad assumere una connotazione sempre più importante. In particolare parliamo di BlackRock e del suo report estremamente interessante proprio sul valore di Bitcoin. Sul valore di Bitcoin non solo nell'ambito dell'investimento ma anche come potenziale valuta migliore rispetto alle valute che già utilizziamo oggi. In particolare in questo report BlackRock parla della potenza di Bitcoin come diversificatore all'interno di un portafoglio, potenza che stiamo in primis testando noi proprio sui nostri portafogli di investimento. In particolare ho creato, e trovi il video qua sopra, questo qua, qualche settimana fa un portafoglio completo in 30 minuti su Bitpanda. Bitpanda è una piattaforma all-in-one al cui interno puoi trovare veramente qualsiasi cosa, quindi qualsiasi asset interessante anche di categorie diverse. E questo ci permette di costruire in un'unica applicazione un portafoglio più o meno completo, più o meno bilanciato. In particolare noi siamo partiti con 360 dollari in portafoglio, attualmente siamo a 372 dollari, quindi una buona crescita. Negli ultimi sette giorni abbiamo fatto quasi un 3%, il che non è assolutamente male. Su che cosa abbiamo investito? Abbiamo creato un portafoglio completo di ETF, materie prime, criptoindici che vediamo tra poco, una parte di liquidità, questa non contarla, sono degli avanzi che avevo, e metalli, quindi siamo andati a mettere tutti gli asset, tutto quello che serve in ciascuna categoria. I criptoindici sono fantastici per chi ha le prime armi, ma io in questo caso li ho scelti comunque perché sono estremamente comodi, il BCI 10 in particolare, che ci espone a che cosa? Ci espone sostanzialmente alle top 10 cripto per capitalizzazione. La cosa interessante è che hanno un auto rebalance, quindi ogni mese vengono ribilanciate e ogni mese se qualcuna di queste esce dalla top 10, viene sostituita da un'altra, ci inserisce all'interno un'altra valuta. Nel 5 anni vediamo che è estremamente interessante il rendimento e il motivo per cui l'ho scelto, quindi non ti serve andare a investire sul mercato cripto, impazzire, scegliere qua, scegliere là, puoi utilizzare questo indice da un'unica piattaforma. Ricordo Bitpanda è ad oggi una piattaforma estremamente regolamentata, ha al suo interno tutto ciò che ti serve per investire comodamente da un unico posto, hai depositi e prelievi gratuiti e con il link che ti lascio qua sotto e anche qua sopra ti comparirà, puoi ricevere fino a 50 euro di bonus nel momento in cui ti iscrivi, guarda tutte le istruzioni per riceverlo. Passiamo a questo punto alla nostra analisi del report. Allora il report è in inglese ovviamente io te l'ho tradotto qua con intelligenza artificiale, ti ho lasciato sia la versione inglese che quella italiana in modo da poter confrontarle, perché a volte quella italiana è stata tradotta in automatico con AI, quindi potrebbero esserci dei punti non proprio top. Bitcoin un diversificatore unico, perché l'attrattiva del Bitcoin per gli investitori risiede nel suo distacco dei tradizionali fattori di rischio e rendimento, questo è il report. Andiamo direttamente ai quattro punti fondamentali di questo report. Uno analizzeremo perché gli investitori che stanno valutando di investire in Bitcoin si stanno chiedendo come analizzarlo in relazione alle attività finanziarie e il perché questo è totalmente sbagliato, perché Bitcoin gode di proprietà a sé, quindi è diverso da tutto ciò che è stato visto finora. Due, parleremo dell'elevata volatilità di Bitcoin, quindi è un asset rischioso su base autonoma nel breve termine, sì, ma la maggior parte di questi fattori di rischio vengono tagliati fuori quando lo si guarda long term. Quindi parleremo dei fattori di rischio, parleremo della differenza rispetto azionario e tutte le altre asset class tradizionali e parleremo di Bitcoin nel long term. Tre, la natura di Bitcoin come asset globale scarso, non sovrano e decentralizzato lo sta portando ad essere considerato da molti come un'opzione di fuga verso la sicurezza in tempi di paura e di incertezza. E quattro, nel lungo termine la traiettoria di adozione di Bitcoin probabilmente sarà proprio guidata da questi fattori qua che abbiamo detto. Cioè maggiore sarà la preoccupazione rispetto al tradizionale sistema o ai tradizionali asset, maggiormente crescerà Bitcoin. Andiamo quindi a vedere direttamente i nostri dati. Iniziamo da qua. Ingrandiamo perché così vediamo bene. Questo è un dato estremamente importante. Molti tendono a considerare Bitcoin come pura speculazione. Invece qua BlackRock fa un passo indietro anche su quelle che erano le sue dichiarazioni iniziali. Va ad analizzare più nel dettaglio Bitcoin e va a dare una visione totalmente opposta rispetto a quella tradizionale della maggior parte di player non solo in ambito investimenti ma anche in ambito politico. Guarda prima questo video qui e poi questo video qua che stai guardando adesso perché ti permette di vedere in contrapposizione questi due punti di vista. Nel primo caso si fanno asserzioni per sentito dire quasi, cioè veramente delle cose di un'ignoranza pazzesca. Dall'altra parte invece, quindi quello che stiamo vedendo adesso, ci si muove sull'ambito dei dati. Quindi dati alla mano si analizza. E andiamo ad analizzare insieme. Perché Bitcoin è importante? Innanzitutto è importante radicarci nei fondamenti di ciò che conferisce a Bitcoin la sua rilevanza. Con la sua creazione nel 2009 Bitcoin è diventato il primo strumento monetario nativo di internet a ottenere un'ampia adozione. La sua innovazione tecnologica è stata la creazione di una forma di valuta, quindi parliamo di valuta, che era nativa digitale, globale, scarsa, decentralizzata e senza autorizzazione. Ed è grazie a queste caratteristiche che ha portato importanti innovazioni per molteplici problemi secolari delle classiche forme di denaro. E qua sono mostrate. Che cosa rende Bitcoin rilevante? Le persistenti sfide storiche legate al denaro sono 1. Inclina inflazione e svalutazione data a una fornitura non fissa. Bitcoin ha una fornitura fissa di 21 milioni con una crescita dell'offerta in calo ogni 4 anni. Che cosa significa? Significa che le valute tradizionali, non avendo un'offerta fissa, viene ovviamente stampata nuova moneta. In conseguenza l'inflazione fa questo. Tende a salire nel tempo. Bitcoin invece non solo ha una fornitura fissa, ma viene anche prodotto via via in modo sempre più scarso. Quindi la sua inflazione non solo è controllata, ma anche tende a scendere. Quindi è l'opposto del denaro tradizionale. E questa è una grande sfida iniziale che è nata sul denaro tradizionale che Bitcoin va a risolvere. Poi il denaro tradizionale è difficile da effettuare oltre i confini. Qui probabilmente è un errore di traduzione. E' difficile spendere oltre i confini. Quindi tutti quelli che sono i pagamenti trasfrontalieri. Pensiamo che ne so a pagare da qui in Cina o pagare da qui in Inghilterra o negli USA o in Africa o in Russia. Pagare da un continente all'altro tendenzialmente ci comporta tanti costi in più e ci comporta anche tempi di attesa più lunghi. Bitcoin invece è nato digitalmente. E' un nativo digitale senza confini. Il suo confine è internet e internet è ovunque. Bitcoin è internet. Di conseguenza permette quasi istantaneamente di trasferire valore nel globo. Quindi Bitcoin può arrivare ovunque in un click. E' estremamente più economico ed estremamente più veloce. Abbiamo poi il terzo punto. Accesso limitato al proprio paese. E' controllato dall'autorità centrale. Qui ovviamente se io prendo oggi e parto con i miei eurini. Me ne vado negli Stati Uniti. Vado in un bar e dico voglio un caffè. Prendo il mio caffè e ti do un euro. Quelli mi guardano e mi dicono no no io voglio i dollari. Che cazzo me ne faccio degli euro? Esattamente questo è il principio. Il fatto che una valuta funziona all'interno del proprio confine del proprio paese. Quindi è regolamentata, creata, gestita dal paese che emette quella valuta. Ma qual è il paese che emette Bitcoin? Nessuno. Bitcoin è su internet. Quindi Bitcoin ha un accesso aperto globale. Bitcoin permette a chiunque ovunque nel mondo di transare con chiunque ovunque nel mondo. Queste sono tre caratteristiche importanti che rendono Bitcoin una valuta migliore del denaro fiat che utilizziamo oggi. Poi qua ci parla del percorso di Bitcoin verso un trilione di dollari di capitalizzazione in mercato. Quindi qua andiamo ad analizzare non più l'aspetto di valuta quindi funzionale di Bitcoin ma l'aspetto di interesse in ambito di investimenti. E Bitcoin in ambito di investimenti è altrettanto eccezionale. Vediamo negli ultimi dieci anni per sette anni. Quindi negli ultimi dieci anni per sette anni ha incredibilmente sovraperformato il mercato. In tre anni invece ha sottoperformato il mercato. Cioè durante il bear market ha avuto dei drawdown come si legge qua superiore al 50%. Ma tra poco li vediamo nel dettaglio. Però nei sette anni su dieci è stato ultraperformante. E se tu vai a sommare gli anni in cui è stato performante con gli anni in cui è stato fortemente in declino viene un netto negli ultimi dieci anni di un più cento per cento di ritorno annualizzato. Quindi parliamo di un ritorno estremamente elevato superiore a qualsiasi altro asset presente là fuori nel mondo tradizionale. Quindi bitcoin ha sovraperformato qualsiasi cosa e questo è estremamente importante da considerare in ottica di investimento. Ma andiamo ancora avanti andiamo a vedere graficamente queste cose perché queste ce le possiamo no? Ce le possiamo suonare e cantare ma noi vogliamo vedere graficamente questa roba qui. Ora chi è nel mondo delle cripto da un po' di tempo questo grafico ormai lo conoscerà a memoria. Per chi invece è appena arrivato su questo mercato voglio spiegarlo per completezza. Questo mostra il rendimento di bitcoin dal 2010 ad oggi. Questo è il movimento di bitcoin in scala logaritmica. Cosa vuol dire? Vuol dire in termini percentuali. Quindi come è cresciuto in termini percentuali nel tempo. Vediamo che è passato qua ha fatto un per 5,92. Poi è crollato di un 93 per cento. Poi è risalito di un 555 per. Poi è sceso di un 84 per cento. 104 per o meno 83. 21 per 77. Ora è il punto interrogativo di come si evolverà adesso. Questo è il ritorno cumulativo in questo periodo. Vorrei mostrarti non solo l'incredibile crescita che vediamo comunque andare ad assottigliarsi nel tempo. Quindi la curva di crescita che ha fatto per andare pian piano ad assottigliarsi perché sono aumentati i capitali in gioco. Ma vorrei mostrarti anche il calo come stato via via minore. Perché abbiamo avuto un meno 93 per cento. Poi un meno 84, un meno 83, un meno 77. Questo andamento rende o almeno ha reso fino ad oggi il prezzo di bitcoin prevedibile. E soprattutto in orizzonti temporali lunghi vediamo come effettivamente ha performato estremamente bene. Andando avanti parliamo di correlazione. Questo è un altro aspetto molto importante. Io tante volte qua sul canale per chi mi conosce lo sa parlo di correlazione di bitcoin con il mercato azionario. C'è una correlazione sì ma nel breve termine. Se noi guardiamo in lungo termine bitcoin tende a essere diverso da tutti gli altri asset. O tende comunque a comportarsi in modo diverso rispetto l'azionario in particolare. Si legge bitcoin riflette una scarsa esposizione fondamentale alle altre variabili macro il che spiega la sua bassa correlazione media a lungo termine con azioni e altri asset rischiosi. Tende ad essere più simile a loro in un certo senso. Sebbene ci siano stati brevi periodi in cui bitcoin ha visto la sua correlazione aumentare in particolare in prossimità di episodi monetari importanti come i tassi di interesse e così via. Lo stiamo vedendo proprio in questi giorni. Tagli il tasso si muove l'azionario si muove bitcoin in una direzione e bitcoin lo segue. E viceversa però sul lungo termine la sua correlazione tende a distaccarsi e come si vede nel grafico qua sotto diventa molto simile in realtà a quella dell'oro. Quindi questa è una cosa estremamente interessante da tenere in considerazione. Andiamo poi avanti e questo è un dato importantissimo proprio facendo seguito alla non correlazione e alla funzionalità di bitcoin che tutti ci aspettiamo possa avere e che vedremo probabilmente proprio in questo periodo perché se il 2025 sarà effettivamente un anno recessivo avremo modo di vedere effettivamente se bitcoin si comporterà come protezione del nostro denaro, protezione del nostro valore in portafoglio piuttosto che invece seguire le dinamiche classiche del mercato. Bitcoin in quanto prima alternativa monetaria decentralizzata, quindi parliamo di alternativa monetaria, non parliamo di gioco la schedina e cazzatevare, parliamo di alternativa monetaria e non sovrana ad ottenere un'adozione ampia globale, non ha alcun rischio di controparte tradizionale. Ascolta bene questi punti perché sono fondamentali, non ha alcun rischio di controparte tradizionale, non dipende quindi da alcun sistema centralizzato e non è guidato dalle fortune di alcun paese. Con fortune di alcun paese si intende che cosa? Si intende le sorti di un paese. Il dollaro è collegato agli Stati Uniti, se gli Stati Uniti vanno dal culo il dollaro va dal culo insieme a loro, se l'Inghilterra va dal culo la sterlina va dal culo insieme a loro, se l'Europa va dal culo l'euro va dal culo insieme all'Europa. Quindi sono tutte valute fiat, fiat fiduciarie, il cui valore è dato da che cosa? Dalla fiducia nel sistema centrale che le ha create. In questo caso stiamo parlando di Bitcoin, di un qualcosa che non è controllato, non è centrale e non dipende di conseguenza da un'unica entità o un unico governo o un unico Stato che lo crea. Quindi un qualcosa di disintermediato. Ed è proprio questo che lo rende estremamente potente in situazioni di crisi globali. E leggiamo proprio qua su BlackRock, queste proprietà lo rendono un'asse tampiamente distaccato sui fondamentali da alcuni fattori di rischio macro, tra cui crisi del sistema bancario, e ne vedremo delle belle con questa, crisi del debito sovrano, altra cosa importante, svalutazione della valuta, sconvolgimenti geopolitici e altri rischi politici e economici specifici di un paese. Nel lungo termine è probabile che la traiettoria di adozione di Bitcoin sarà guidata dal grado in cui le preoccupazioni aumentano e diminuiscono verso quella che è l'instabilità monetaria globale. Quindi meno sicurezza, meno fiducia ci sarà nelle valute tradizionali, più sicurezza, più adozione ci sarà su Bitcoin. Quindi mentre le valute tradizionali cadranno a picco, Bitcoin molto probabilmente salirà. E questo è molto importante. Andiamo a questo punto a leggere i dati perché è inutile chiacchierare, no? Dobbiamo vedere i dati. E qui vediamo i dati di che cosa? Di SP500, oro e Bitcoin attraverso i principali eventi geopolitici dal 2020 al 2024. Quindi quelli più recenti che tutti noi abbiamo vissuto. Senza andare a scomodare quelli più vecchi, vediamo i più recenti. Escalation, Stati Uniti, Iran, il 3 gennaio 2020. A 10 giorni dall'evento vediamo SP500 fare un più 2%, l'oro rimanere flat e poi Bitcoin un più 12%. A 60 giorni dall'evento vediamo l'SP500 che crolla a un meno 7%, l'oro che sale. E questo è molto interessante quando vedi l'SP500 che scende con quell'azionero che scende tendenzialmente l'oro va a performare perché l'oro è molto simile a Bitcoin, o meglio Bitcoin è molto simile a loro e tende a performare bene in situazioni di crisi. E poi vediamo Bitcoin invece che ha fatto un più 20%. Epidemia Covid, 11 marzo 2020, meno 20% immediato SP500, meno 9% l'oro, meno 25% Bitcoin, quindi non tantissimo più in giù rispetto SP500. Ma a 60 giorni vediamo ritornare su di un più 2% l'SP500, vediamo ritornare su l'oro di un più 3%, ma vediamo Bitcoin distaccarsi totalmente e fare un più 21%. Sfida delle elezioni statunitensi 2020, 3 novembre 2020. 7% SP500, meno 1% oro, più 19% Bitcoin, SP500 sale, più 12%, meno 1% dell'oro, qui stampaggio di denaro, si va a inflazionare, ma vediamo che Bitcoin proprio totalmente distaccato, qua ha fatto un per 10 rispetto all'azionario, quindi veramente una spinta incredibile. Invasione russa dell'Ucraina, 24 febbraio 2022. 1% SP500, 2% l'oro, meno 6% Bitcoin, ma subito dopo, a 60 giorni, un 3% SP500, 9% l'oro e un 15% Bitcoin. Crisi bancaria regionale degli Stati Uniti, 9 marzo 2023, ed è qui che io mi sono divertito ad acquistare Bitcoin, come anche qua in realtà. Abbiamo meno 2% SP500, 10% oro, 25% Bitcoin. Subito dopo, 4% SPX, 11% l'oro e il 32% Bitcoin. Adesso siamo nel carry trade yen, 5 agosto 2024 è rimasto sostanzialmente tutto flat, a parte l'SPX. Vediamo ad ottobre come andrà qua e che cosa ci sarà, come dato in questo punto. Questo era per vedere, per dimostrare come effettivamente Bitcoin si stia muovendo in modo molto più responsivo, molto più forte alle crisi. Le dinamiche del debito degli Stati Uniti tornano al centro dell'attenzione. In questa direzione le crescenti preoccupazioni degli Stati Uniti e all'estero sullo stato di deficit del debito federale hanno aumentato l'attrattiva di potenziali asset di riserva alternativi e di potenziale copertura contro possibili eventi futuri che influenzano il dollaro statunitense, in particolare i metalli e in particolare Bitcoin. Qui vediamo nel grafico, scorro un po' giù, eccolo qua, vediamo il debito federale lordo negli Stati Uniti in trillions, poi vediamo il deficit surplus degli Stati Uniti in termini percentuali rispetto al PIL in rosso. Qui abbiamo i livelli della seconda guerra mondiale, della grande recessione, della pandemia. Guardate attentamente questo grafico con calma, passiamo al punto clou, al punto cloucciale di cui abbiamo già parlato all'inizio ed è poi il fulcro di questo report. Bitcoin è ancora un asset rischioso? Sì, nessuna delle analisi precedenti nega il fatto che Bitcoin su base autonoma, soprattutto nei brevi termini, sia ancora un asset molto rischioso dovuto a che cosa? Ha una tecnologia emergente che ancora ha inizio agli albori del suo percorso di adozione verso una potenziale però trasformazione in un asset di pagamento globale e una riserva di valore e anche volatile, come abbiamo visto, soggettano a miriadi di rischi che includono sfide normative, incertezze sul percorso di adozione, un sistema economico ancora immaturo per l'utilizzo e tutta un'altra serie di fattori che abbiamo già analizzato e analizziamo da tempo qua sul canale. In particolare però voglio parlarti di risk on, risk off perché oggi si tende a cercare di introdurre Bitcoin all'interno del classico risk on, risk off che viene utilizzato nel mondo degli investimenti tradizionali per mitigare i rischi sul portafoglio e capire quando e come utilizzare un asset piuttosto che un altro a seconda dell'andamento macroeconomico se vogliamo. Questo per renderlo più fruibile, per dirla velocemente. Ora, in questo caso in realtà il Bitcoin in quanto tale è un caso di studio particolarmente toccante sul perché i semplici framework risk on e risk off possono non avere la sfumatura per essere ampiamente utili. Qua è tradotto probabilmente male, però di fatto lo ci dice nel file originale è risk on e risk off non puoi applicarli a Bitcoin. Bitcoin è su un livello di rischio a sé, quindi ha una categorizzazione di rischio con queste cose che ci siamo detti a sé, quindi non ha nulla a che fare con il tradizionale risk on, risk off. In particolare dal punto di vista del portafoglio, Bitcoin detenuto in quote modeste può avere un effetto non solo diversificante sui portafogli, ma anche esponenzialmente di crescite, tra poco ti dico cosa vuol dire, mentre a posizioni più grandi la sua elevata volatilità inizia ad avere un impatto sproporzionato nell'aumento del rischio del portafoglio. C'erano stati anche già altri documenti, se non vado erato, di WisdomTree dove mostrava nel dettaglio come una piccola porzione di Bitcoin nel proprio portafoglio permetteva da un lato di ridurre il drawdown perché ci aumentava nel lungo termine la diversificazione, ma contemporaneamente di aumentare le entrate potenziali grazie alla sua potente crescita esponenziale che riesce a donare. D'altra parte ovviamente se aumenti la quantità nel breve termine può essere estremamente volatile e può essere molto rischioso per un portafoglio a livello di esposizione. Comunque qua ti spiega poi l'impatto dell'aggiunta di Bitcoin su un portafoglio tradizionale 60-40 di azioni con tutte le varie allocazioni, qua ti spiega poi nel dettaglio come va a modificarsi quello che poi è lo SHERP ratio. Questo era il report di BlackRock, ci tenevo ad analizzarlo bene punto per punto insieme, per comprendere che cosa abbiamo per le mani, che cosa stiamo utilizzando, cioè che cosa stiamo comprando. Al di là del profitto, del buy, sell, long, short, tutta questa roba qui che si fa su Bitcoin, è importante comprendere a livello fondamentale che cosa sia Bitcoin. Perché da un lato Bitcoin può essere considerato o potrebbe diventare una valuta globale, dall'altra parte un sistema di riserva di valore, di protezione del nostro capitale, del nostro valore negli anni, a fronte delle sfide geopolitiche e non solo, anche finanziarie che dovremo affrontare. Quindi credo che Bitcoin sia un asset incredibile, estremamente interessante, che vale la pena approfondire e vale la pena in particolare inserire nel proprio portafoglio in base a quello che ci siamo detti fino adesso. Fammi sapere cosa ne pensi qua sotto nei commenti. Mi raccomando, lascia like e condividi questo video con più persone possibili, perché è importante comprendere quello che è il grande cambiamento che c'è in atto attualmente. Iscritta al canale se ti fa piacere, chiaramente, per poter vedere tanti altri video e aggiornamenti esattamente come questo qua che abbiamo appena visto. Ti ricordo qua sotto, ti lascio il link di Bitpanda se vuoi provarlo, se vuoi testarlo. Ti ringrazio tanto per essere stato qui con me. Un abbraccio grande e ci vediamo nel prossimo video.